Benvenuti in Davosa. La storia di Davosa inizia nel 1946 con la fondazione della società Hasler Frere da parte del talentuoso orologiaio David Hasler e il suo fratello Paul Hasler. La compagnia inizia a produrre i propri movimenti e orologi, guadagnando una reputazione di eccellenza tra i clienti negli Stati Uniti. Nel 1961, i figli del fondatore Wilfred ed Eric diventano soci e la compagnia si espande rapidamente in Europa, conquistando nuovi mercati grazie alla qualità delle loro specialità meccaniche. Nel 1975, la compagnia amplia la sua produzione per includere orologi al quarzo, adattandosi alle esigenze del mercato. La richiesta di orologi meccanici, compresi quelli con complicazioni speciali, aumenta verso la fine degli anni 80. Nel 1987, Davosa crea una piccola collezione sotto il nome di Davosa, che comprende funzionalità come quella del cronografo, la riserva di carica e i regolatori. La collezione viene ben accolta dai rivenditori, dai clienti e dalla stampa, e da quel momento in poi la compagnia continua ad ampliarla. I clienti di Davosa sono coinvolti nel processo di produzione, e le loro idee sono integrate nei progetti. Ciò ha portato all'elaborazione di orologi Davosa sempre più sofisticati, alcuni in serie riservate e limitate. Il marchio Davosa è diventato sinonimo di eleganza, precisione e affidabilità, grazie alla sua attenzione ai dettagli e all'utilizzo di materiali di alta qualità. La compagnia produce orologi per uomini e donne, con una vasta gamma di stili e funzionalità. I modelli Davosa includono orologi subacquei, orologi da pilota, orologi da regata, orologi da viaggio e molti altri. Ogni modello è progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, con particolare attenzione alla funzionalità e all'estetica. Gli orologi Davosa sono dotati di movimenti di alta precisione, tra cui movimenti automatici e al quarzo, e sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, titanio, oro rosa e platino.